L'uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti acquiscono la violenza tra i giovani. L'appello alle istituzioni ad incidere in azioni iniziative di prevenzione del parroco di San Valentino Torio Don Alessandro Cirillo che interviene per applaudire la conclusione delle indagini sul brutale pestaggio del 31enne cittadino extracomunitario avvenuto il 29 gennaio scorso. Cinque persone sono finite agli arresti domiciliari. La violenza sarebbe scattata perché la vittima del brutale pestaggio non avrebbe fornito l'indirizzo di un connazionale. Per cinque persone, tutte tra i 19 e 52 anni, residenti a San Valentino Torio, sono scattati gli arresti domiciliari a seguito delle indagini portate avanti dopo l'aggressione avvenuta in Piazza Croce a San Valentino Torio. Sono stati i carabinieri del reparto territoriale di Nociara Inferiore a far luce sulla brutta vicenda. Grazie alle telecamere di videosorveglianza è emerso che gli aggressori accusati di rapina aggravata, lesioni personali aggravate, viaggiavano a bordo di due automobili e sarebbero stati aiutati da altri complici giunti a piedi sul luogo dell'aggressione. La vittima che rischiò la vita riportò diverse fratture e lesioni traumatiche. Le motivazioni che ci sono dietro non sappiamo. Può essere anche una situazione personale, di rapporti tesi personali che possono capitare tra italiani e italiani e in questo caso tra italiani e qualche extracomunitario. Io credo che anche l'attenzione sia da monitorare per quanto riguarda anche il fenomeno della delinquenza e dello spaccio su San Valentino Torio perché non sempre c'è un'attenzione forte e vigilante per scarsità anche di organici a livello di polizia municipale, dei carabinieri che con le poche forze che hanno cercano di fronteggiare le tante situazioni di ogni giorno. Però di certo anche la delinquenza piccola si fa sentire.